Rosy, scusami, è lunedì partiamo per Ginevra, la PAM non c'è, tu non ci sei, il Giovanni... Mi mettete in una valigia, ci posso essere anche, scusa, sono piccolino Abbiamo dato delle istruzioni, è vero, ho seguito con attenzione La piastra sicuramente e poi per il macchiage tu, d'altra parte, dovrai fare altrettanto con lui Non dico la piastra ma almeno il macchiage Lo trucco? Lo trucco Sentite, sentite, allora io direi che oggi di carne al fuoco ne abbiamo parecchia Tantissimi Perché? Il nostro Sam, Samuele Barbarossa, è stato da voi e ha filmato la trasformazione, ha seguito la trasformazione di una, credo, quasi neomamma Questione di ore, si direbbe Non sappiamo Non sappiamo Sappiamo soltanto che in questo momento è proprio monitorata, a riposo perché sta arrivando la bimba E come ci ha scritto lei in un email molto carino, che tra l'altro salutiamo Ramona Assolutamente sì Sarò una mamma sprint grazie a voi ma vedremo adesso anche perché E vedremo il cambio look Ma non solo perché si è concluso ormai da qualche giorno anche il festival di Sanremo E abbiamo parlato dei look, dei vestiti, ma con voi vorremmo anche vedere qualche acconciatura, vorremmo sentire la vostra opinione perché noi l'abbiamo trovata un'edizione un po' scialbetta E allora se ci state vorrei tornare al famoso gioco delle foto che piace tanto a Gianfranco E allora io direi, partiamo, vediamo la regia che ci fa vedere, potete scegliere anche voi, William e Denise Ci lasciamo sorprendere Tra l'altro Ecco, beh questa scusate non c'era ma si è notata l'assenza perché Allora su questo faccio parlare l'amante segreto Va bene, di Anna Oxa Io ho sempre adorato Anna Oxa, ha sempre avuto dei look meravigliosi È una trasformista lei Sì, e poi bellissima, quanto era bellissima prima, quanto è brutta adesso scusatene Perché secondo me sì, ha avuto una trasformazione in negativo Però, boh, ormai ognuno fa le sue scelte Ma siete litigati come direbbe mio figlio Io l'ho sempre adorata comunque Beh, io rimpiango la noxa dei tempi Dei tempi, quando ero un po' più aggressiva Lei non c'era ma c'erano altri personaggi Pensiamo ad esempio, ecco, Antonella Ruggera Antonella Ruggera, io penso che è sempre stata una grandonna E ha giocato molto bene con un macchiage sempre molto sensuale E poi con questa chioma di capelli neri, mediterranei E acconciature sempre mediterranei Quale è lei? Perché è una donna mediterranea Quindi ha bisogno di avere questi capelli morbidi, arruffati Non abbiamo mai visto un'Antonella con dei capelli giulisci o tirati Lei proprio sa giocare anche nel tempo Perché non è più una donna giovanissima Però è sempre bello vedere perché vedi proprio un'immagine di una donna Donna vera Cioè, ma un look sicuramente sofisticato Che vedi addice anche al genere musicale Che ha continuato poi Ricercato proprio nei dettagli Nei dettagli Però non mai tradendo la sua vera personalità È vero, è sempre riconoscibile Qui ha un viso anche che si adatta a diverse cose Vediamo chi ci propone William Beh, Arisa Arisa, io ti dico tra l'altro Volevo salutare Angelo Che è un mio caro amico Ed è uno dei parrucchieri più vecchi di Sanremo Più vecchi non gettano Professionalmente parlando Arisa quest'anno ha sfoggiato Ma penso ha detto di tutti Un look da vera donna Da vera donna sofisticata Un po' retro Con questo già nel vestire Avete visto questi vestitini Che vederli addosso Veniva voglia di andarli subito a comprare E poi con questo look di capelli corti ma morbidi Dalla sua frangiona Che era un po' da ragazzina naif Adesso questo look di capelli corti È cresciuta anche lei Io trovo che è una bella donna Anche lei nella sua semplicità Ha sempre avuto dei look particolari Trovo Sia nei tagli, nelle pettinature Sia anche nell'aspetto dei vestiti Ed è l'unica anche scusa se aggiungo L'unica delle poche cantanti Che mi viene in mente Che ha saputo sfruttare Gli occhiali come oggetto complementare Veramente al top Cioè li ha veramente sfruttati In tutte le sue forme Facendo attirare l'attenzione Proprio su quello Vediamo la prossima protagonista Eccola qua Giuseppe Erreri Giuseppe Erreri Io lei sinceramente al festival non l'ho vista Infatti non ho idea se avesse i capelli lunghi Come ce l'ho vista Con questo look che a me proprio non piace Non neanche a me Com'era lei a Sanremo? Sai che... Io penso che Sanremo non lo sa nessuno Anche perché io non l'ho visto Però ho sfogliato Diciamo... Questa fotografia che abbiamo visto Ecco questa qui è orribile Cioè non si adatta per niente alla persona Ma no sta meglio con l'altro look E poi per una cantante o attrice Per una donna di spettacolo Quando arriviamo a questi estremi Dal lungo e il rasato È un estremo che vuole attirare più l'occhio Sull'aspetto fisico e meno sul contenuto E questo disperde tanto Allora io non lo so Magari ne vediamo ancora una Così dobbiamo essere un po' veloci Perché dobbiamo scoprire la nostra Ramona Ecco Casta La Casta Esatto Casta è stata quella che ha fatto parlare di più Perché aveva un magnifico vestito Che può piacere o non piacere Però da gran soiree Accompagnato dei capelli insipidi Di appena mi sono alzata dal letto E sono venuta così com'ero Era questa la congiatura? No 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 Era un qualcosa proprio di trasandato Sembrava che si era appena usata dal letto Del chatouche Ma dei resti di chatouche Non le ha voluto bene il parrucchiere Non pensate che fosse il tuo amico No, i parrucchieri purtroppo sono molto legati anche lì, attenzione, difendo la categoria anche a Sanremo, ma anche perché veramente parlando hanno le mani legate. E allora il suo consulente di immagini. Esatto, sono i consulenti di immagini che tante volte vogliono superare se stessi ma perdono di vista certe cose. Ma cari Rosi e Giovanni, noi vogliamo conoscere Ramona e allora vediamo com'è arrivata da voi. Vediamo, eccola. Questa è Ramona, cosa sappiamo di lei? Di Ramona sappiamo che è una mamma, ha detto che si può sapere l'età, quindi ha 32 anni, una persona simpaticissima, pronta a tutto, con un marito come ha detto lei, un po' più tradizionalista che ha penni lunghi. Però veramente quando l'ho visto ho detto no, questa è una ragazza talmente pimpante che bisogna... Sì, tra l'altro Ramona è stata la prima telespettatrice a scriversi a Zunbellezza. A Zunbellezza New Edition. New Edition di Nonda con voi. L'ultima puntata, la prima puntata. Ci ricordiamo, eravamo presenti quando è arrivata la mail, proprio alla fine... Ah, ma è lei! Esatto, che ha detto che era incinta, che doveva partorire, che aveva veramente voglia di cambiare il look. Quindi... Quindi avete tagliato i capelli? Diteci cosa avete fatto. Abbiamo fatto una bella valutazione inizialmente e il cambiamento è totale, completo, sia nel taglio e sia nel colore. Abbiamo cercato di... beh, quello lo vedremo poi dopo anche nelle immagini finali. Certo, non anticipiamo troppo. Non anticipiamo troppo, no. Comunque è stato un gran bel lavoro, molto soddisfacente troppo. Ecco, lei non è arrivata con i capelli lunghissimi, però... No, aveva le spalle, aveva una lunghezza alle spalle, ma quello che abbiamo lavorato è tirando fuori un po' questa grinta che abbiamo visto subito in lei e attraverso anche vedrai il macchiage, ma anche proprio nel colore che vi sorprenderà nel finale perché non vogliamo scoprire proprio troppo. Una curiosità, aveva già lei le idee, diciamo, in chiaro o voi avete, insomma, carpito, percepito... Magari aveva dei limiti. Ma noi, innanzitutto, quando facciamo Zoom bellezza, anche le telespettratirici che si vogliono iscrivere, così, sanno già... Anche uomini, è possibile. Anche uomini, certo. Anzi, li aspettiamo. Certo. Beh, già loro sanno che ci deve essere una gran trasformazione, quindi hanno già una gran fiducia in noi e si affidano alla nostra professionalità. E devo dire, Ramona, appena vista, proprio parlando, vedi che c'è dentro un'altra persona. E abbiamo tirato fuori la seconda persona. Beh, anche perché prima non era mamma e praticamente adesso deve partorire. E io spero che magari riceviamo un sms in diretta. In diretta. Però ecco, noi abbiamo creato su lei, col colore, che se le immagini possono magari andare... Ripartire, vediamo. Ripartire per vedere un po' verso il finale. Col colore abbiamo riportato dei colori chiari, perché non voglio scoprire adesso. Questo è il trucco, il marecco. Questo è il trucco, ma si incomincia a intravedere qualcosa. Col trucco abbiamo illuminato gli occhi che, come vedete prima, nelle riprese che ha fatto Sam, vedrete il prima e il dopo, erano quasi inesistenti. Ha dei lineamenti, oserei dire, quasi perfetti anche nella bocca, quindi è stato facile riprendere nel macchiaggio. E poi adesso penso che quando vedremo il look finale... Eccolo qua. Eccolo qua, si vede. Questa è Ramona. È un colore originale, però, eh? È un colore subicocca. Nuovi colori. Ma è il nuovo trend. È il nuovo trend, perché i biondi molto freddi e molto caldi, quindi c'erano i gialli, i non gialli, andavano un po' a fare dei modè. Questi colori che ci permettono, un'altra volta avevamo fragola, adesso qui ho giocato su un albicocca che veramente è qualcosa di caldo e poi, ecco, il risultato l'avete visto. Con delle punte quasi di rosso. Nell'immagine prima di movimento, non nel fermo immagine, vedavate ancora proprio il colore che gli dava una carica fantastica. È chiaro che il cambiamento è stato radicale. Totale. Ecco, qual è stata la sua reazione? Perché guarda che mica tutti accettano tranquillamente. No, quando si è vista col colore, col taglio ha già detto wow, col colore ha detto cavoli. Però sono proprio figa. Sono preparate comunque loro già inizialmente. Ma il marito cosa ha detto? Dal suo sms è piaciuto anche al marito che mi ha detto un pochettino più bigotto di lei, però sono piaciuta a tutti.